Finalmente si sblocca un periodo buio per la pubblica amministrazione in generale perché il blocco dei contratti riguardava tutta la pubblica amministrazione. Abbiamo finalmente raggiunto il 30 novembre del 2016 un accordo che ha sbloccato definitivamente una stagione che ci aveva visto alle corde rispetto a quello che era la contrattazione. Oggi siamo qui a rivendicare il rispetto di quell'accordo. Il 30 novembre noi abbiamo sottoscritto un accordo per gli aumenti contrattuali, le somme sono disponibili, i comitati di settore hanno dato i loro pareri e non ci spieghiamo questi ritardi legati ad una convocazione del tavolo. A dire la verità oggi ci giungono dei segnali rispetto a questa nostra iniziativa che è una mobilizzazione che riguarda tutta l'Italia che ci sono le convocazioni in atti, quindi l'Aran finalmente ha deciso di convocarci per chiudere definitivamente. Noi chiediamo rispetto a questo un sostegno da parte dei governatori di tutta Italia, in particolare noi oggi ci incontreremo con il governatore della Calabria, siamo qui, non è una manifestazione ma una semplice presenza a supporto di questa nostra iniziativa e siamo convinti che anche il Presidente della Calabria, così come molti altri Presidenti hanno già fatto, sosterranno questa nostra iniziativa.